Essere costruttori di unità. È stato questo il compito che Papa Francesco ha affidato ai membri del Sinodo della Chiesa Caldea ricevuti in Vaticano. Ricordando le priorità sulle quali stanno riflettendo, come le migrazioni forzate dei cristiani, la ricostruzione dei villaggi, il ritorno degli sfollati in Iraq, il Pontefice è sortato a risanare le divisioni nella società, favorire il dialogo tra le parti per la riconciliazione del Paese, perché non venga meno la speranza e la forza d'animo, nonostante le difficoltà. Infine, l'incoraggiamento ad esaminare con cura le vocazioni, ad accompagnare il percorso dei candidati, ad essere paterni con i sacerdoti. Voglio l'occasione per salutare attraverso di voi i fedeli dell'amata terra irachena, duramente provati, condividendo la speranza per le notizie recenti che parlano di una ripresa della vita e dell'attività in regioni e città finora sottoposte a dolorosa e violenta oppressione. Possa la misericordia di Dio venire le ferite della guerra, che piagano il cuore delle vostre comunità, affinché possano finalmente risollevarsi. Pasta la misericordia di Dio v Cara Dere